E' la grande momento, DJ Galeazzo Tifico DJ Galeazzo, DJ più trend e più, quattro del momento Io sono famoso per la mia, i Pareti Irriverente L'unica dove ha canzoni originali, mo' cantante e personal Questa sera Made in Sud, i cinque brani più ascoltati della settimana Al numero 5 troviamo lei, Amy Winehouse Di Scandolo in Scandolo al numero 4, Vittorio Emanuele di Savoia E' una storia va a buttare Al numero 3, lo Scandolo del 2007, Fabrizio Corona Raggiunto ormai una certa età, al numero 2, Silvestre Stallone nei panni di Rocky 6 e Rambo 4 E al numero 1, lo Scandolo dell'anno Direttamente dalla Formula 1, Mosley e la sua orgia nazista Il DJ Galeazzo vi saluta qui sulle note della sua sigla, scritta da Frank Carpentieri E vi ricordo la sua imparenza, l'unica dove ha canzoni originali, mo' cantante e personal E lui è Salvatore Gisonna, uno dei nostri ospiti fissi di Made in Sud Ma adesso c'è una sorpresa, io non lo sapevo Perché praticamente c'è un fuori programma, tutto al femminile Facciamo entrare quindi questi ospiti, queste ospite donne che devono entrare, non so Grazie, mamma che vergogna, ciao Gigi, ma Enzo Paolo Turchi, non t'avevo visto prima Sono brutta, sei voluto donne, ciao Gigi, ciao Rosa, guardate comiche voi, mamma mia, fate ridere Eh, vuoi sentire una battuta Eh, fammi sentire Te la faccio Qual è il colmo per un panettiere? Non lo so Mamma, mamma, per lì mi ha fatto la cacca Sì, ma non si entra, non fa ridere Hai capito? Meno a me però Vai Lorella, vai Oh mamma mia Sai perché i carabinieri vanno sempre il giro in due? Fatta sma formaggino Non ho capito Però mi ha fatto tanto ridere Ma che fai, non c'entra, ragazzi, non c'entra Mamma mia, sembra adatangelo a catia a re Mamma mia, che fa tutt'onda Sì, sono proprio cretine, ma vuoi sapere dove siete cresciute voi? Noi? No In Torione Ah, ecco, ecco perché La battaglia Torione, Torione